Per il quarto anno il Centro Storico di Pesaro torna ad ospitare Cali City l'estate in un sorso, festival dedicato ai produttori vitivinicoli della provincia. Come nell'edizione 2023 l'iniziativa si focalizzerà su via Castelfidardo, ma ampliandola alle vicine via Mazze e via Mazzolari, comprendenti il cosiddetto Centro Commerciale Naturale Portasale. Quest'anno sarà un evento di presentazione, di socializzazione e di presentazione di vini, ma non solo, di attività commerciali artigiani che sono protagoniste di queste due vie interessate, arricchite e condite da masterclass direttamente seguite dall'Aes Pesaro, che ringraziamo per la loro collaborazione, e Raffaele Papi, delegato Pesaro di Aes Pesaro, che ci aiuteranno a capire, a comprendere e a presentare ciò che potremmo andare ad assaggiare e a conoscere quel giorno. Al costo di 12 euro sarà consegnato un calice, un portacalice e quattro coupon per altrettante degustazioni da scegliere tra le decine di etichette proposte dalle 20 cantine del territorio che partecipano all'iniziativa. Alle casse sarà anche possibile acquistare i biglietti per partecipare a tre masterclass in collaborazione con Aes Pesaro al costo di 5 euro ciascuna. Tanti cittadini non conoscevano le aziende agricole del nostro territorio. Questo è servito a far sì che in tanti hanno conosciuto anche il vino e oggi lo troviamo in tante tavole di ristoranti. Quindi è un indotto e crea comunque quella filiera dalla coltivazione fino al prodotto finito e anche all'assaggio. In questo evento si valorizza l'eccellenza del territorio, si dialoga tra associazioni di categoria, si dialoga con tutta la parte di amministrazione. Quindi è davvero un evento eccellente. Siamo partiti quattro anni fa con un tavolo operativo per disegnare questo progetto e oggi raccogliamo i frutti di questo lavoro. Una valorizzazione per il 2024 è importante perché c'è un ingresso della compagine giovane. Quindi idee nuove ogni anno è stata una piacevole scoperta e quest'anno sicuramente sarà successo con le tante novità portate dai ragazzi.